track 2, ultimo talk della giornata Valentino Spataro ci racconta qualcosa che è legato all'ambito legale ma anche tecnico Valentino Spataro ha iniziato a fare i primi test della versione di Wordpress dal 2006 quindi la conosce conosce Wordpress ha programmato anche in perla SP e PHP quindi insomma in linguaggi veramente famosi e anche di tanti anni fa ma anche di oggi ha capito che Wordpress era più di una tecnologia quando tutti su LinkedIn lo raccomandavano come esperto di Wordpress anche se lo conoscevano solo per il suo CMS perché ai tempi Valentino aveva fatto un suo CMS si può sopravvivere alla privacy con la rendicontabilità documentate tutto per difendervi dagli estranei che assaliranno i vostri clienti e adesso Valentino Spataro per Privacy e Wordpress ok vi ringrazio tantissimo cercherò di non abusare la vostra pazienza per essere qui per ascoltarmi dovete avere proprio un'attenzione e una sensibilità unica perché la materia è pesante allora non la farò pesante la mia idea è di darvi delle semplici nozioni sulle quali poi uno può andare a approfondire però avere già queste prime nozioni sicuramente vi cambia il modo di lavorare quindi ho diviso il mio intervento tra errori frequenti però partiremo dalle sanzioni più comuni che sono state erogate quindi andiamo a vedere casi concreti i comportamenti difensivi per voi e eventuali clausole che tutti mi chiamano salvavita che sono sempre comode magari nei contratti o nelle e-mail anche che andate a utilizzare se ho la voce alta ditemelo che ogni tanto sento ok allora io nasco sviluppatore ho scoperto che riuscivo a programmare su carta quando non avevo ancora il combo 64 poi ho trascritto tutto il codice funzionato ho detto ok sono un programmatore e il babbo mi voleva giurista avvocato meglio e io invece mi sono limitato a fare giurista per casi della vita nella laurea sulla tutela del software ho scritto un paragrafo nel 95 sulla privacy e tutti mi dicono ma non era la prima del 96? ecco io nel 95 ho cominciato a parlare di privacy sono il podcaster più longevo d'Italia ho iniziato nel 2008 non mi sono mai fermato e da vari anni ogni giorno un episodio nuovo c'è anche un podcast dedicato proprio alla privacy un minuto, un minuto e mezzo due alla settimana quindi state tranquilli e poi privacy ve l'ho detto questo è quello di cui parleremo adesso non dobbiamo guardarlo qua perché lo vedremo specificamente più avanti però vi volevo già dare un po' l'impostazione generale da una parte le sanzioni più comuni dall'altra gli errori più frequenti comportamenti difensivi e clausole salvavita voglio farvi vedere anche internamente quanto ogni sezione può pesare allora primo tema password ricordo parliamo delle password nei provvedimenti del garante o nella giurisprudenza di Cassazione qualche volta se ne parlo del tribunale di merito ma c'è talmente poco c'è qualcosa di più di Cassazione caso concreto covid una unità sanitaria sta utilizzando un software appena consegnato appena aggiornato appena modificato e via di seguito viene consegnato con la password 1, 2, 3, 4 ebbene voi immaginerete quante volte è stata data l'istruzione cambiatela subito ovviamente data breach pubblicato su twitter mi sembra un esame di qualcuno indagini sanzionata anche l'azienda che ha fornito il software perché l'utente non ha cambiato la password iniziale ma soprattutto perché non è stata obbligata dal software a cambiare la password iniziale secondo secondo tipo di sanzioni molto frequenti password troppo semplici ecco questo è già quello che vi dicevo cioè la password troppo semplice 1, 2, 3, 4 ormai noi lo sappiamo ma l'utente medio qualche volta lo so non sempre ecco oggi quando io faccio vedere volutamente le mie password di 30 caratteri mi guardano in un certo modo perché usando il password manager è una certa cosa ma il problema non è questo per l'azienda che sviluppa l'azienda che sviluppa oggi come oggi deve sapere anche in determinati contesti la password o non sola deve essere un certo di un certo livello di complicazione misurata nel momento in cui uno la personalizza ma deve avere anche una durata e a seconda del tipo di password che potrebbe essere anche un token potrebbe essere anche qualcosa che scade dopo pochi secondi quindi considerate la complessità della password come un momento in cui dovremo usare quelle belle librerie quelle belle linee di funzioni o magari ce le scriviamo noi che dicono ok non è abbastanza complessa e te la blocco informate magari bene l'utente come deve dare alla password giusta perché occupandomi anche di accessibilità ho visto che poi spesso i messaggi di errore arrivano dopo beh dimmelo subito che deve essere complessa e come e quanto e poi appunto l'elemento dell'eternità le password eterne sono solo presenti nei nostri password manager che ci dicano allora la cambi sì o no però se forniamo un servizio un software può essere un servizio o un software ma in ogni caso un oggetto commerciale utilizzabile in un'attività che non avvisa che la password va cambiata si possono avere dei problemi uno dei vari casi se non sbaglio fu proprio Aruba con le PEC che le cui password non scadevano mai e allora ogni volta che voi vi sentite obbligati a cambiare la password su un servizio online ricordate che dietro c'è un provvedimento del garante voi dice tu non hai avvisato e soprattutto nella tua documentazione interna non hai mai nemmeno preso in considerazione nelle analisi di rischio che tutti devono fare prima di pubblicare o consegnare il prodotto tu non hai mai nemmeno considerato questo problema che era ovvio dirà il garante che sia ovvio o non ovvio non mi interessa e che ne dobbiamo tenere traccia ecco il tema della rendicontabilità che abbiamo sentito appena accennare prima secondo punto ok password è facile ma io come identifico una persona online ebbene un caso in Lazio e ancora una volta ha reso ha condannato un'azienda produttrice di software perché aveva fatto un software perfetto peccato che l'identificazione era collegato a un software della regione era per l'accesso o di Roma era per l'accesso alla ZTL quindi chi poteva entrare dentro il sistema che controllava gli accessi le targhe eccetera eccetera solo gli operatori abilitati ebbene questo servizio è stato cambiato non è rimasto più sincronizzato con l'altro fornito risultato chiunque poteva vedere gli accessi di altri le date dell'assicurazione c'è tutto targhe e così via questo per dire che non è bastato all'azienda informatica dire ma a me hanno detto che erano loro che gestivano i permessi ora se questi potevano entrare tutti è ovvio che entravano anche dal mio sistema perché io non ho mai sviluppato questa parte di controllo non la dovevo sviluppare l'ingenuità in quel caso è stato fidarsi del cliente e delle parole dette o dello scambio di mail che non è stato reso formale cioè se a un certo punto qualcuno vi dice sì ma guarda l'identificazione la facciamo noi quindi basta che tu fai questo e magari te lo dicono a telefono o te lo dice un esperto dall'altra parte che l'ha sviluppato questa cosa dovete formalizzarla metterla nel registro delle attività che quel registro e voi terrete in forma di posta elettronica in formato Excel come volete messaggio posta elettronica vi mandate voi stessi magari una casella dedicata questo è il mio suggerimento in cui scrivete io non faccio questa cosa perché il cliente mi ha chiesto di non farla perché la fa lui non solo perché mi ha chiesto di non farla perché io devo sapere qual è la privacy e devo tutelare comunque i dati quindi sarei colpevole comunque però si è detto che la fa lui allora io non l'ho fatta perché la fa lui perché non ho voglia di farla io perché il garante pretende che quella cosa venga messa a posto e non accetta importi superiori ha detto tu non la fai hai chiesto altri soldi e non te li danno io ti condanno a te è il problema dei soldi prenderli quindi questo aiuta a capire poi un po' concretamente come funzionano le cose e pensiamo a Facebook Facebook ha cambiato il protocollo di connessione per cui c'è un tracciamento nel momento stesso in cui compare l'autenticazione tramite Facebook prima ancora di dare l'autenticazione ecco in questi casi noi dobbiamo controllare i fornitori per sapere quello che fanno fino a che punto possiamo farlo questa è la domanda che lascerò aperta ovviamente però se il cliente vi chiede di usare un protocollo di autenticazione esterno tenete traccia che la richiesta è sua non è una vostra iniziativa e che voi gli dite mi raccomando guarda che se Facebook cambia le devi devi riferirmelo così io te lo blocco temporaneamente e potrai accedere con quell'altro sistema di emergenza che io ti lascio traccianti l'abbiamo appena accennato fino adesso quindi posso non parlarne tutto quello che finisce negli Stati Uniti non piace sostanzialmente l'indirizzo IP viene considerato un dato personale non ditemi che è un dato anonimo io tecnicamente vi posso dire tranquillamente che alcuni IP sono assolutamente anonimi per me il fatto che potenzialmente siano identificabili per Google significa che entriamo nell'interpretazione che fanno tutti i garanti oggi anche su iniziativa Schrems dall'Austria per dire no è un dato che può diventare personale quindi comunque è un dato personale quarto caso anche oggi ne parlavo un po' con tutti le migrazioni fatte di corsa crolla un sito è un click day magari un'università che organizza un sondaggio una domanda entro quel giorno un bando dei fondi crolla il sito cosa si fa e non riesco a bloccare devo metterlo su di corsa da un'altra parte oppure perché proprio ci sono dei bug nel software di corsa devo mettere ecco il di corsa signori significa che non abbiamo il tempo di fare il nostro lavoro punto e basta questa cosa deve essere gestita in modo maniacale da parte dall'azienda che riceve una richiesta urgentissima dice ok allora vieni qua dammi tutte le risorse necessarie io ci metterò tutto il tempo che c'è bisogno per tutelare i dati personali quindi inutile mi chiedi una data un orario io devo fare le cose bene tipico esempio copio un intero server su tutto un sito che è su un server su un altro server copia ctrl c ctrl v della cartella dall'altra parte si perdono gli ht access tutti i pdf in chiaro casi concreti vi sto raccontando quindi no no non si può avviare una procedura così soprattutto quelle urgenti soprattutto quelle straordinarie quinto e qui possiamo andare molto rapidi a chi spettano i testi legali allora l'azienda che sviluppa il software è responsabile del trattamento cioè segue le istruzioni del titolare tu mi chiedi di fare software io seguo le tue istruzioni dammi le tue condizioni legali mettetelo nero su bianco faccio come il papa mettetelo nero su bianco scrivetelo sempre nel contratto nel preventivo nella nella consegna nelle email che vi scambiate guarda che la devi fare tu me la dai ehi perché io devo seguire le tue direttive non sono io che mi devo inventare come lavori tu attenzione che chiaramente dall'altra parte gli avvocati sono molto agguerenti a sostenere il contrario dopodiché c'è un dovere di collaborazione quindi ricordiamo che in ogni caso di incertezza l'azienda informatica è ritenuta responsabile perché si è mossa di propria iniziativa massima dalla Cassazione che ho letto due giorni fa mi sembra di fine dell'anno scorso 2021 la Cassazione quindi sono già arrivati fin là hanno detto guardate in questo caso nell'uno nell'altro avevano mai preso accordi su questa cosa l'azienda informatica ha deciso di sviluppare questa soluzione in questo modo l'ha fatto è sbagliata e risponde all'azienda informatica condannata l'azienda informatica ci sono casi addirittura complicati nel friule Venezia Giulia ma non andiamo nel dettaglio su chi doveva fare cosa addirittura per il garante l'asl doveva rifiutarsi di seguire le direttive della regione perché l'asl è titolare e la regione è solo un responsabile del trattamento che in quel momento però forniva il software a tutte le province e tutte le asl quindi l'asl siccome era lei che decideva la regione non contava niente nonostante il proprio regolamento ora questo è un altro modo di vedere quello che vi ho detto fino adesso controllare l'identità degli utenti gli errori i momenti di stress quindi bisogna fare tutto subito oppure anche essere vittimi di phishing quindi cadere nel social engineering ma soprattutto non tanto una disorganizzazione quanto non avere un punto di riferimento organizzativo all'interno dell'azienda gli errori più frequenti li abbiamo visti le email scusate le password le email che devono essere usate per tenere traccia di chi fa cosa su richiesta di chi cioè la faccio di mia iniziativa perché me l'hai chiesto tu scrivere tutte le istruzioni e poi fare affidamento qui ho messo plugin e trackers ma in generale il tema dell'affidamento dei nostri sub fornitori come come ci fidiamo e trasferiamo quello che fanno loro ai nostri clienti quindi tenere traccia della valutazione che abbiamo fatto del framework che andiamo a utilizzare comportamenti difensivi ve li ho già ampiamente indicati guardiamo subito avere dei modelli da seguire per dover sempre reinventare la ruota scegliere i fornitori quindi scegliere i plugin restare aggiornati e poi le checklist checklist ne troverete purtroppo fatte soprattutto dal garante inglese che comunque è nato ancora in ambito GDPR prima della Brexit qualcosa c'è fatto di molto bello ma più discorsivo dalla CNIL che è l'autorità francese comunque in francese gli spagnoli sono molto attenti ai dettagli se volete avere delle idee chiare sintetiche puntuali per coprire il massimo l'autorità inglese è il massimo ora se volete sono qua per le domande grazie Valentino per i vostri dubbi casi grazie perfetto ciao volevo chiederti a livello interno di piccola realtà viene chiesto allo sviluppatore di inserire questa privacy all'interno del sito che gli viene fornita ovviamente da persone più in alto di lui privacy errata problematiche sanzione in quel caso il titolare si può rifare a chi fisicamente ha inserito questa privacy all'interno del sito ovvero lo sviluppatore ha seguito delle istruzioni sbagliate però ricordate l'onere della prova che nel GDPR si chiama accountability cioè rendi contabilità rendere conto però è rendi contabilità è un modo per non parlare che presuntivamente siete colpevoli voi ok quindi cosa significa rendi contabilità noi che riceviamo tutte queste indicazioni queste richieste ce le scriviamo in quel registrino delle attività dicendo tizio mi ha chiesto di fare questo io ho fatto questo ora si può tenere in formato informatico non è necessario che sia firmato con firma elettronica e quindi datato ma va bene se lo firmate se ve lo mandate via email capite che avete già subito una serie di sistemi che vi documentano che siete stati voi a mandare l'email a che ora in che giorno e con quale contenuto quindi se magari poi vi firmate firmate magari con PGP mettendo un timestamp un hashtag no hashtag scusate un codice di hash che viene generato automatico quale firma elettronica il contenuto è in chiaro però non può essere nemmeno modificato quindi ci sono tante cose che si possono fare basta che le scrivete e idealmente almeno una volta al mese ve le stampate anche su carta così se perdete tutto ce l'avete altre domande sì allora io ho diversi colleghi sono sviluppatore faccio sito diversi colleghi che al momento di realizzare un contratto inseriscono un documento di scarico della responsabilità in un tuo precedente intervento mi aveva colpito il fatto che tu dicevi che che è il contrario che è più dannoso che mi vuoi spiegare meglio perché DPA Data Processing Agreement e sostanzialmente cosa succede nell'impostazione della privacy siccome sin dai tempi di Rodotà ma anche poi del GDPR l'idea degli avvocati che gli ingegneri gli informatici non li filano allora è colpa loro quindi bisogna dargli delle regole che trasferiscono su di loro la responsabilità per motivarli questo è un testo che già era scritto negli anni 80 a Rodotà quindi nero su bianco nelle prime dieci pagine c'è questo riferimento molto colorito che però è quello che crea il problema della rendicontabilità ora la presunzione che l'informatico non abbia fatto quello che poteva fare per impedire il danno significa che se l'informatico dice questo non è affar mio rientra perfettamente del ah tu non hai voluto farlo bene sei mio ok quindi non era mia la responsabilità lui mi ha detto di fare così lui è il titolare lui decide il trattamento io non sono d'accordo eh devo gestire questo conflitto gli interpreti e qui dico cosa dicono gli interpreti perché c'è scritto nel testo che bisogna collaborare per impedire danni agli utenti quindi c'è un comportamento obbligatorio che dobbiamo avere proattivo significa che se vediamo qualcosa che non va dobbiamo dirlo al titolare e dobbiamo dirgli noi non te lo facciamo nel concreto possiamo arrivare a dire noi non te lo facciamo oppure te lo faccio ma se succede qualcosa non sono affari miei va valutato caso per caso in generale se vado a dire lo faccio ma non sono affari miei vuol dire che sto riconoscendo che non potevo farlo ecco perché dico non scriviamo né in un in condizioni generali né la dpa né nell'email che io non lo volevo fare piuttosto dire signori ho capito perché voi volete farmi fare la cosa così quindi io ve la faccio vi raccomando di continuare a trattare i dati solo e unicamente in questa situazione ricordatevi di gestire i rischi che io vedo quindi parlate sempre del carico e rischi i rischi che io vedo dovete gestirli in questa fase che dipende da voi quindi non sto dicendo io non te lo faccio sto dicendo ok te lo faccio perché evidentemente sei tu che insisti perché ti metti a posto Cassazione ha condannato proprio per questo ha confermato una condanna all'azienda informatica proprio perché non aveva tracciato questo scambio in questo modo spero di avervi altre domande? anche problemi concreti di chi di voi si è occupato mai di consegna datemi i tempi per dirmi se sono fuori sì 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 abbiamo ancora qualche minuto voi la consegna dei siti come la fate? prima consegno prima pagano lettera di consegna brava lettera di consegna poi abbiamo una lettera di consegna chi offre due lettere di consegna cercasi seconda lettera di consegna modo di consegna bozza di consegna che cosa consegnate? che cosa consegnate? infatti posso fare mi aggancio questa cosa per fare una domanda sì in effetti i freelance spesso si trovano non solo a prendere carico di a volte occuparsi anche della pagina in termini e condizioni cioè alla fine i freelance gli fanno fare di tutto gli fanno fare le foto degli e-commerce gli fanno scrivere i contenuti del blog che loro fanno magari tecnicamente uno dice sì ti faccio sito work ma dai scrivimi anche due cose quindi la parte legale in realtà fa parte di un pacchetto di cose che cascano sulla schiena dello sviluppatore che per non dire di no al cliente fa listino la risposta tua è il listino indipendentemente dal contratto da chi farà cosa voi fate un listino lo mettete online e dite io per pubblicare una foto e scrivere due parole ti chiedo 200 euro tu me l'hai chiesto è nel mio listino quando ti ho mandato l'offerta ti ho legato il mio listino chiedimi tutto quello che vuoi non te lo faccio pagare ringraziami questo è il primo step non sono d'accordo con i listini mi sa di listo della spesa no in questo caso è un disclaimer cioè non è mia competenza ti sto definendo quello che ti vendo puoi anche dire listino della spesa non metto 200 euro anche 2000 da preventivare da definire non incluso quindi poi lo stile ognuno perfetto ma di fatti poi ognuno ha proprio stile e dipende dalla situazione del cliente però assolutamente mettere con quella voce è come stranea come io dico sempre mettere l'indicazione dei testi legali che devono essere forniti dal committente ok una cosa vi dicevo però quando consegnate qualcosa o peggio ancora quando lo restituite dopo una gestione per un conto è consegnare WordPress un conto è gestirlo e voi a un certo punto vi trovate di fronte alla marea di configurazioni la più banale che dico tutti è gravatar nei commenti il supporto di gravatar nei commenti perché devo trasferire l'ip address e l'email a qualcuno negli Stati Uniti per metterci il suo avatar nei miei commenti siamo ancora sotto la Shrems quindi si mandano dati negli Stati Uniti e non possiamo farlo se non abbiamo raccolto un consenso espresso anticipato quindi per esempio in una cosa così banale che c'è perché nel core c'è ovunque dal momento in cui consegno devo dire ho disabilitato i commenti e ho disabilitato anche il riconoscimento dell'avatar tramite gravatar perché se poi qualcuno dice aspetta ma io c'ho gravatar attivato ma io non te l'ho consegnato così quindi attenzione anche alle configurazioni e a cosa installate è una cosa lunga mi rendo conto ve lo dico io ho realizzato vari modelli ma se cercate in giro ne trovate delle indicazioni ma quello che vi sto spiegando adesso lo potete fare anche voi cercate di documentare che è la rendicontabilità alla consegna tutto quello che state consegnando inteso come software plugin temi e le configurazioni perché le configurazioni chiaramente permettono di fare di più di meno proprio per il discorso rendicontabilità è possibile anche stenderla al di fuori anche della privacy per dire esempio stupido un plugin viene si scopre una falla in questo plugin il giorno dopo viene aggiornato in queste 12 ore per esempio che passano io non mi accorgo subito che va aggiornato viene bucato il sito l'azienda perde x soldi esatto può rifarsi su di me e in quel caso il discorso rendicontabilità mi può essere utile rientra tra le istruzioni che devi dare tu hai dato tra le istruzioni quello di tenere aggiornato il sito quanti clienti sono in paranoia non lo vogliono aggiornare mai il software ah no poi non mi funziona più cioè sono una quantità in vera e gronda benissimo scrivetelo devi aggiornare il sito perché il software open source i problemi ci sono come tutti gli altri software quindi si deve fare manutenzione ordinaria e continua non la fai a mano ogni giorno tu si fa fare al software che è predisposto per gli aggiornamenti quindi te lo consegno con gli aggiornamenti in automatico poi obiettivamente se hai un cliente importante tu sai che a quella software non lo aggiorna lo avvisi che diventa anche una cosa positiva aggiungo anche che si può aggiungere si può vendere il servizio di manutenzione aggiornamento al cliente cioè non si deve regalare bisogna spiegare al cliente che wordpress va aggiornato e non deve aggiornare magari uno che si occupa di jeans o di cose ma deve essere aggiornato da uno che se c'è un problema poi sa dove metterci in mano quindi è un servizio da vendere si fanno dei contratti proprio di assistenza manutenzione o gestione addirittura quelli che vogliono la polizza assicurativa di uno dietro ci sono anche i servizi che fanno solo questo li conosciamo un po' tutti anche un caro amico veramente bravo quindi facciamolo anche noi c'è una domanda? quindi sì dobbiamo dare delle istruzioni anche non solo dire ti consegno questo ma istruire sui compiti classici però vedi che alla fine sono sempre le stesse cose quindi pure io me le sono raccolte le ho messe lì tutte insieme e ogni volta puff ma in questo senso se io la mia offerta dico che il sito deve essere aggiornato e come dice Cristiano io ti propongo un servizio di aggiornamento un abbonamento di aggiornamento se poi il cliente non accetta in preventivo non va avanti è sufficiente per nel caso di Wordpress sì perché Wordpress ha i sistemi di aggiornamento automatico quindi noi possiamo in quel caso dire vabbè non lo dai a me io non sono occupevole perché comunque si può aggiornare da solo poi se qualcosa non va chiamami e intervengo nel momento io ti dico o lo fai con me o lo fai in automatico con Wordpress però ti ho avvisato è la trasparenza e la rendicontabilità di aver condiviso queste nozioni di sicurezza che noi abbiamo col cliente che non ha queste nozioni di sicurezza questo rientra nel GDPR è il dovere di collaborazione tra titolare e responsabile perfetto grazie Valentino spettaro adesso tutti quanti anzi alle 17.30 in sala 1 per i closing remarks grazie Valentino ancora grazie a voi 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 grazie a voi